Dal 10 agosto prossimo sarà possibile ricevere il vaccino Pfizer anche nelle farmacie private a retine. Finora la vaccinazione era consentita soltanto con il vaccino Johnson & Johnson per gli over 60, ma l'affluenza era stata bassissima. Dal 10 agosto nelle 54 farmacie private a retine aderenti alla campagna sarà dunque possibile vaccinarsi anche con il vaccino anti-covid Pfizer per tutte le fasce di età autorizzate, quindi a partire dai 16 anni in su. È la risposta che attendevamo per poter dare un contributo fondamentale alla campagna vaccinale anche in vista della sempre maggiore esigenza di promuovere i green pass sanitari, lo afferma Roberto Giotti, presidente di Federfarma Arezzo. Un momento decisivo, afferma ancora, che cambierà definitivamente in meglio l'andamento della campagna vaccinale toscana a supporto dell'opera dei medici, di famiglia e dei pediatri. Si tratta di un provvedimento fondamentale, spiega ancora Giotti insieme a tutti gli altri, che dall'inizio della pandemia hanno visto la farmacia protagonista assoluta della lotta contro il virus. Il vaccino gratuito anti-covid che si può effettuare in farmacia rappresenta quindi l'ultimo tassello nel mosaico che illustra il ruolo sempre più decisivo e fondamentale delle farmacie a livello sanitario.